Visto che l'amministrazione comunale, soprattutto nella persona dell'assessore alla cultura, non ha dato ascolto alle istanze dei ragazzi del cinema in America, tu che cosa pensi che dovrebbe fare il sindaco per loro? Posso dire l'assessore cosa vuol dire cultura? E poi io direi di chiedere un favore, chiedere se ha un'ora libera, anche domenica mattina, per accompagnarlo lì, per accompagnarlo in Trastevere, per fargli vedere la zona, voi ragazzi, la fatica che avete fatto tutti questi anni, in questo tempo, per portare avanti questa impresa, farlo entrare nel luogo e dirgli questo che vogliamo fare, un centro culturale, un centro per i giovani, un centro per le persone del quartiere, un centro che ha bisogno di vivere per far vivere tutti nel ricordo e nel futuro. Anch'io sono d'accordo, penso che se... Se l'assessore e anche il sindaco vedessero di persona quello che i ragazzi hanno fatto e stanno facendo... Forse sì, ma ci sarebbe un po' di commozione, come per la verità è accaduto a molti di noi quando siamo nati là dentro, che sono come vicini ad uno spazio, sono finiti in quel meraviglioso buchetto dove discutono, dove parlano, dove fanno discutere e dove, grazie a Dio, ho sentito parlare di progetti, una parola che sembra... Ci sono due parole che si usano malamente, cultura e progetti. Io mi piacerebbe che con dei illustri colleghi, molti più illustri di me, accompagnassero il sindaco, Marino, l'assessore alla cultura, verso questo spazio, nel cuore di Roma. Non lontano, peraltro, dalla sede, dal Campidoglio, dal Campidoglio, non fa neanche... Possiamo andare a piedi, senza bicicletta, senza bicicletta, esatto.